CGL e Cisle Will insieme con i propri pensionati e le proprie associazioni dei pensionati hanno fatto una proposta unitaria da verificare con i comuni e con l'azienda sanitaria in cui gli argomenti principali sono quelli di rimettere al centro la persona perché l'assistenza sociale e sanitaria sia integrata su tutto il territorio e si arrivi ad un livello di qualità importante. Noi ci teniamo a chiedere che la sanità pubblica sia rafforzata in maniera seria e che si possa riparlare di prevenzione a 370 gradi, quindi in maniera complessiva e si dia una funzione forte ai territori e ai distretti sanitari in modo che le persone non abbiano soltanto nel presidio ospedaliero il loro punto di riferimento ma in tutto il percorso ci sia un aiuto e un supporto in maniera che nessuno si trovi solo di fronte a tante realtà. Purtroppo c'è una carenza di medici, di infermieri che deve essere in qualche modo sanata perché altrimenti anche tutto quello che faremo con investimenti, con il PNRR rischia di diventare qualcosa che sono soltanto mura vuote ma senza persone. Noi vorremmo e chiederemo anche ai comuni che diventino nostri alleati in questo settore per cercare di ottenere il massimo in questo senso non si sprechino risorse e in più si dia un aiuto anche nella parte sociale per quanto riguarda gli aiuti alle persone che sono in situazione di povertà, ai giovani e sappiamo il disagio giovanile quanti problemi ha in questo periodo.